Gli agenti della questura di Avellino hanno individuato e sequestrato una casa squillo in pieno centro città, denunciando due meretrici di nazionalità argentina, una di 37 e l'altra di 44 anni. La scoperta è avvenuta in maniera singolare e questa forse è la notizia più particolare. Tutto è partito da una denuncia sporta dalla madre di un ragazzo, allarmata per la sua prolungata assenza da casa. Le ricerche, subito messe in moto, sono cominciate risalendo all'ultimo posto in cui il giovane era stato avvistato. Lì, in un cassonetto poco distante, dalla zona in cui è stata scoperta la casa d'appuntamento, il cellulare del ragazzo, utilizzato dagli agenti per intercettare le sue ultime conversazioni. Tra queste, il contenuto di alcune telefonate, che non lasciavano alcun dubbio in merito. Discussioni 8 con due donne di marcato accento straniero, che non lasciava alcun dubbio sulle attività di queste ultime. Sulla scorta degli elementi acquisiti dagli agenti, spacciandosi per normali clienti, dopo aver contattato telefonicamente le donne, concordavano un appuntamento finalizzato a usufruire dei servigi di piacere. Alle prime ore della mattina, dopo aver indossato abiti civili, poliziotti si sono recati all'appuntamento e giunti sul posto sono stati ricevuti in totale cordialità dalle due avvenenti donne, che in abiti succinti, non utrendo alcun sospetto di essere di fronte ad agenti di polizia, subito hanno formulato le richieste di denaro pari ad euro 50, in cambio delle prestazioni di piacere precedentemente pattuite. Con amarissima sorpresa però, le due, invece dei soldi, hanno visto i tesserini dei poliziotti, che dopo essersi qualificati hanno provveduto ad accompagnarle in questura, dove in seguito ad accertamenti di rito sono state deferite in stato di libertà. L'appartamento è stato sottoposto a sequestro. Il giovane nel frattempo è ritornato a casa, inconsapevole del ruolo che ha svolto in tutta questa vicenda.